Il 27 ottobre del 1992 nasce a Savona Stefani Escharawi, una delle principali promesse per il futuro azzurro. Soprannominato il faraone per le sue origini egiziane, Escharawi banta almeno una presenza in ogni rappresentativa giovanile italiana. Il 15 agosto 2012, non ancora ventenne, fa il suo esordio in nazionale maggiore in occasione dell'amichevole Aberna contro l'Inghilterra. Nonostante la giovane età, il commissario tecnico Cesare Prandelli lo considera subito un giocatore importante per la sua squadra ed Escharawi ripaga la fiducia dell'allenatore con il primo gol, realizzato alla sua terza presenza in maglia azzurra nell'amichevole di Parma contro la Francia. La Confederations Cup è il primo torneo importante a cui partecipa ma non riesce a brillare anche perché è frenato da diversi problemi fisici. La speranza è che Escharawi possa rialzare la sua caratteristica cresta quando tornerà in Brasile per i prossimi mondiali del 2014.